Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di un nonno e suo nipote. Cosa voglio dirti? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Un nonno e suo nipote. Il nipote va dal nonno e gli dice, nonno, ma quanto è grande il mondo? Beh, e il nonno gli risponde, dipende da quanto sono grandi i tuoi sogni. Cosa voleva dire il nonno con questo? Perché gli ha detto questo? Beh, semplicemente perché se tu ti poni con grandi sogni, pensando che nel mondo ci siano grandi cose, grandi opportunità, il mondo sarà molto grande per te e sarà in grado di vedere quanto è bello, quante cose ci sono in questo mondo. Se invece al contrario non riesci ad avere grandi sogni, riesci semplicemente a vedere che il mondo è solo scarsità, che non ce n'è abbastanza per tutti, che non ce n'è abbastanza per te e per nessun altro, allora, allora in questo caso il tuo mondo sarà molto piccolo e sarà proprio come lo sogni, sarà proprio pieno di ingiustizie, pieno di scarsità, di cose che non sono sufficienti per tutti. Quindi è molto importante sapere cosa sogni ed è molto importante sognare in grande, perché se riesci a sognare in grande il tuo mondo sarà grande e sarà un mondo pieno di infinite possibilità, sarà un mondo pieno di abbondanza e se quello che vuoi nella tua vita è abbondanza, questo devi cercare, questo devi sognare e devi sapere che questo c'è, perché siamo noi a rendere il mondo un posto scarso, un posto dove tutte le cose, le risorse sono limitate e dove tutto quello che ci serve è scarso e non ce n'è abbastanza per tutti. Quindi cerca di sognare in grande e agisci, ci vediamo domani, ciao!